Ciao ragazzi, siamo in diretta per questo web talk che avrà come protagonista Daniele Besana, il quale ci presenterà il cosiddetto cugino figo di Zapier, che si chiama Integromat, un tool che lui ha portato all'interno, alla nostra conoscenza all'interno del Digital Mastermind, quindi gli passo la parola. Daniele, l'unica cosa, siccome non siamo solo noi del Mastermind, ma ci vedono anche altri da fuori, racconta un po' per chi non ti conosce chi sei e cosa fai nella vita, ti do il benvenuto, a te la parola. Grazie Giulio, per chi non mi conosce sono Daniele Besana, sono sempre stato un tecnico, una persona che ha sempre aiutato aziende facendo supporto informatico e ho avuto la fortuna di avere a che fare con aziende sia molto piccole, a livello di aziende familiari, piccole realtà in Brianza dove iniziai tanti anni fa, che poi con aziende molto grosse, continuando la mia carriera informatica in Olanda dove dovevo tuttora. E ad un certo punto di questa carriera, un po' la crisi dei trenta, un po' il libro quattro ore alla settimana di Tim Ferriss che mi fu regalato da un amico, mi sono trovato a lasciare questa carriera che avevo per dedicarmi al web, perché mi sembrava che il web ha ancora tantissime opportunità per vivere una vita più libera, per essere padroni di se stessi e gestire meglio il proprio tempo. Quindi ho iniziato a dedicarmi a progetti web, i primi erano per i progetti che compravo, quindi compravo tutti i già esistenti e poi lavoravo per rendere i più profittevoli. E facendo tutto questo ho iniziato a parlare con tante altre persone che volevano fare una cosa simile, comunque lavorare sul web, avere i propri progetti online, e mi sono reso conto che tante volte si schiantavano sulla parte che per me era quella più facile, cioè la parte tecnica. E quindi mi sono reso conto appunto che tante persone avevano dei grandi progetti, molta più esperienza business di me, però non trovavano un tipo di supporto tecnico all'altezza per realizzare e per mantenere e far funzionare i progetti. E' così che oramai tre anni fa ho lanciato WPOK, che è un servizio di supporto WordPress illimitato per chi vuole fare sul serio. Molti clienti che comunque abbiamo a che fare sono tutte persone che affrontano il web in modo serio e che quindi cercano supporto efficiente e all'altezza di seguirli. E poi è il motivo per cui siamo conosciuti io e te, perché io sono diventato tuo cliente su WPOK e quando ho visto di che si trattava con l'effetto wow, ho detto devo conoscere l'uomo che c'è dietro questa cosa fantastica. Eh già, erano quasi tre anni fa, è vero. Eh sa, è il nostro primo anniversario. Nel frattempo sono successe tante cose, insomma per far crescere anche WPOK i vari progetti, mi sono appassionato sui discorsi di automazione, ovviamente quanto più la tecnologia digitale ci può aiutare a automatizzare il lavoro che facciamo e più liberiamo tempo e risorse anche mentali per poterci occupare ad altro. Ed è così che ho iniziato a sperimentare Zapier, che hai già menzionato tu, è sicuramente lo strumento più conosciuto per creare automazione e fare diversi software. e fino a che a un certo punto mi sono incappato in questo IntegroMath che ho iniziato a sperimentare e sono innamorato subito. Faccio un attimo una premessa. Cosa sono questi strumenti qui per integrare più software? Negli ultimi anni sempre più strumenti online, quindi quelli che vengono chiamati software service, o comunque strumenti online che si possono utilizzare, si sono aperti introducendo quelle che vengono chiamate API. Cioè è una cosa tecnica per cui praticamente questi servizi, oltre a poter fare tutto quello che vuoi attraverso la loro interfaccia, possono anche comunicare con altri servizi e in modo di essere programmati attraverso queste interfacce API. Questo ha aperto un mondo nuovo dove ci sono appunto tante... tutto il mondo delle automazioni, dove un software può dire a un altro software che cosa deve fare. E quindi queste soluzioni, questi strumenti come Zapier, IntegroMath e anche IFTT, if this than that, sono strumenti che si mettono in mezzo e permettono di far interfacciare diversi strumenti. Quindi ancora il discorso del software, che dice a un altro software cosa fare quando succede una certa cosa magari su un terzo software. Ora, se non l'ho fatta troppo complicata, condivido lo schermo. Ok. Ditemi... Fatemi l'ok. Io ti vedo. Anzi, mi vedo. Ti vedi, ok. Ok, allora, questo è IntegroMath, l'indirizzo è IntegroMath.com e qui invece ho un'altra finestra dove ho Zapier. Parto facendo un piccolo confronto perché magari alcune persone hanno già utilizzato Zapier e hanno presente come funziona. Per chi vuole approcciare questo strumento, vediamo, partiamo dal pricing per capire un attimo le differenze più grosse. addirittura, la review comparativa. La review comparativa. Review comparativa, ho bisogno di cliccare su pricing. Io personalmente utilizzo Zapier, lo utilizzo nel piano gratuito, però ti dà mille limitazioni. Vediamo come sta messo IntegroMath. Allora, IntegroMath, innanzitutto, nel piano gratuito offre mille operazioni al mese e ha dei limiti sul trasferimento dei dati e su quanto spesso puoi effettuare una certa automazione. Non si può utilizzare delle frequenze più basse di una volta ogni 15 minuti, che comunque resta un limite facilmente accettabile. e ha il vantaggio però di offrire quello che IntegroMath chiama scenari, quindi delle automazioni sono illimitate, se ne possono creare, si può creare un numero illimitato di scenari e si ha l'accesso a tutti i moduli. Cosa sono i moduli? Ogni modulo è praticamente un software che si vuole integrare. Quindi di fatto già nella versione gratuita si può fare tutto, l'unica limitazione è in quante operazioni e le limitazioni più grosse sono quante operazioni e con quanta frequenza si possono fare le automazioni. Se confrontiamo con Zapier, Zapier ha dei limiti abbastanza grossi, perché... Ora, perché qua non lo vedo, ve lo apro su una finestra... Ditemi se non si vede. Non te lo voglio neanche dire che esiste il piano gratuito. Ho già fatto login, allora. Cioè, il piano gratuito è limitato a due Zap, quindi si possono creare due automazioni. Cioè, scusa, ci sono cinque automazioni che si possono creare, però ogni automazione può avere al massimo due passaggi. Quindi posso dire, se succede... Non so, se c'è un nuovo articolo sul blog, mandalo come... Crea un post su Facebook. Però mi fermo lì. Non posso dire, dopo aver fatto questo, crea anche un post su Patreon o fai delle altre attività. Puoi fare al massimo due. E se vuoi passare alla versione a pagamento, che è quella dove puoi far tutto... Ah, anche un limite... Non hai accesso a tutte le applicazioni supportate. Se vuoi passare alla versione a pagamento, sono 20 dollari al mese, che comunque trovo una di quelle spese che non ci pensa un attimo prima di attivare una sottoscrizione così. Mentre con Integromat io non ci ho pensato due volte, perché per 9 dollari al mese ho l'abbonamento base, dove ho addirittura 10.000 operazioni, un intervallo fino a 5 minuti, quindi insomma, talmente tanti vantaggi che ho attivato la Basic. Però, ripeto, non c'è nessun bisogno. Probabilmente con la versione free si può non solo fare tante cose. Oltretutto in Zapier non lo dicono, ma comunque io ho un limite di automazioni nel piano free, che mi pare che siano 5. Solo 5, sì. Sì, infatti, ho visto anche io che sulla pagina non l'hanno messo in chiaro, però su... Adesso vado nel... nei miei Zap. Ok. Quindi nei miei Zap... Dov... No. Dov'è che... Ah, è quello qua. Sì, task ne ho fatti 3 di 100, e Zap 3 di 5, quindi c'è questo limite qua di 5. Ah, certo. Ora, adesso non è che per fare marchette a Integromat, che mi piace molto. In realtà li utilizzo tutti e due, perché ci sono delle funzionalità che... Zapier è molto più diffuso e ha supporto per più applicazioni. Quindi per alcune cose specifiche ancora mi devo affidare a Zapier. Per esempio Zapier ha un'integrazione con Gravity Form, che è un plugin per... per Word... per fare form e moduli su Wordpress, che in alcune situazioni è molto comodo fare un'automazione direttamente da lì. Ora, vediamo... Quando parlo di scenari, scenari limitati, questo per esempio è uno scenario per... all'interno di Integromat. La cosa più bella di Integromat è sicuramente l'interfaccia, perché permette di fare... appunto di collegare questi moduli e creare delle automazioni. Quindi questo è uno scenario unico dove succedono tante cose all'interno di questo scenario. Diverse automazioni, partendo da un ordine effettuato su WooCommerce, ci sono delle... vengono fatte delle cose su ActiveCampaign, in Google Sheet, e addirittura poi in HelpScout, che è il software di... di... HelpDesk che utilizziamo. Ora, prima di addentrarci nei scenari, faccio una carrellata delle varie voci che ci sono in Integromat. Prima di fare la carrellata, ti riporto tutto l'apprezzamento di Luciano e di Jonathan, che uno già conosce Integromat, l'altro usa Zapier ed è contento di conoscere alternative. E poi Salvatore domanda, magari risponderai dopo, lo esploreremo insieme, però già ora domanda, se si può lavorare anche con Zapier su Instagram per fare follow, like e unfollow automatici, oppure se questa è una roba che si deve fare solo tramite un bot? Non ho controllato, ma sono funzionalità che di solito si fanno con i bot. Ok. Non credo che possa fare questo tipo di automazione, né Zapier, né Integromat. Va bene, andiamo alla panoramica, allora. Panoramica, ok. Siamo sulla dashboard, quindi c'è una visione generale del abbonamento che si ha, il numero di operazioni fatte e i dati trasferiti. Ora, sono a 0% di 1 giga e di operazioni ne faccio comunque fatte 1.600 in questo mese, quindi diciamo, sono ben lontano da raggiungere i limiti. Questi sono i scenari attivi e ecco, comunque questa è una panoramica. Già in questa versione è possibile avere più utenti, perché è un problema che a volte si ha, si vogliono magari automatizzare o collegare più servizi, ma non si vuole dare accesso a una terza persona, al proprio account YouTube, al proprio account Gmail, quindi si possono invitare persone a lavorare sulle automazioni con un livello di accesso inferiore senza avere accesso di fatto ai vari servizi. Poi qua la sottoscrizione, appunto la sottoscrizione attiva, spero, sto aspettando che facciano un appagamento annuale, ma finora è solo mensile, infatti qua sono cliente ben dal luglio del 2017. E questa invece è la schermata su cui si lavora più spesso, che è quella degli scenari, su che andiamo a approfondire dopo. Poi qui c'è una voce per i template. I template sono tutta una serie di soluzioni, di scenari già creati e si può filtrare, per esempio, se vogliamo filtrare per... Per cosa possiamo filtrare? Filtraremo per... Eh, dicevamo Instagram. Ok, vediamo un po' che idee dà. Ci possono caricare foto di Instagram su Facebook, su Pinterest, su un gruppo Facebook, mandare su Slack, insomma, tutta una serie di idee, mandare le foto su Google Drive anche, tutta una serie di idee che in questo caso basta cliccare cliccare e scegliere di creare un nuovo scenario a questo template e per partire in automatico già con queste impostazioni. Poi, connessioni. Connessioni sono tutti gli account e servizi che sono stati autorizzati. Per esempio, MailChimp. Per poter utilizzare MailChimp, prima aveva fatto un'operazione per autorizzare Integromat ad accedere. E da questa pagina si può sia verificare che funzioni. Questo, per esempio, è Calendly. E si può anche revocare, quindi cancellare la connessione. Poi, i webhooks sono una cosa un po' più tecnica. Di fatto, tutti quei servizi che non sono supportati già da Integromat si possono supportare creando webhooks. Però, adesso è una cosa un po' più tecnica. Che, di solito, i servizi che ne hanno bisogno, come in questo caso il Scout, ti danno loro le istruzioni per fare questa cosa. Keys, niente, è una cosa legata al più alla sicurezza e cifratura, ma non è una funzione che uso. Qua ci sono i device, perché si può anche collegare un telefono, smartphone, Android o iPhone. E qui c'è il mio Xiaomi, che è collegato. Dopo vi spiego perché, cosa mi è venuto in mente di fare. Data Store sono delle specie di database, perché magari da uno scenario all'altro serve passare dei dati e si possono salvare in questi database. Prefisco mandare i dati a Google Sheet se mi serve mandare i dati all'esterno, quindi è una funzione che comunque si ha chiuso poco. Poi, qui, delle cose un po' più avanzate, Data Structure, applicazioni, si possono anche creare le tue applicazioni se non sono supportate. Avere più organizzazioni, se si hanno magari più aziende o più realtà. E su What's New, c'è questo botto carino, questa timeline, dove si vede quali sono le novità. Per esempio, l'applicazione, l'altro giorno, Formstack, nuove funzionalità per il Telegram bot, insomma, si può vedere cosa stanno combinando. Poi qui ci sono notifiche, ci sono problemi, come in questo caso sono stati problemi con l'automazione. Poi c'è la parte di help, dove si possono anche aprire il ticket. Il ticket, il supporto, allora, loro sono un'azienda nella Repubblica Ceca e il supporto finora è stato molto buono e anche nello stesso orario nostro, quindi in orario europeo. E poi qui hanno anche una community su Facebook, un gruppo Facebook che funziona molto bene anche per scambi tra utenti e servizio. E poi, vabbè, Affiliate Program, si può vedere lo stato, verificare che sia tutto funzionante. Ok, a questo punto addentriamoci di più nella parte degli scenari. E, beh, qui lo utilizzo per fare diverse cose. Ne prendo uno, prendo un esempio, ok, questo, che ho collegato il canale YouTube alla pagina Facebook. Ora, quando, se clicco entro nella modalità Edit, quindi qui cliccando su un modulo si possono vedere i dettagli. C'è innanzitutto la connessione con l'account Google per poter accedere a YouTube, ho selezionato la playlist da cui voglio prendere i canali e qui c'è il secondo modulo che è la pagina Facebook, quindi anche qui è collegata la pagina Facebook, ho scelto quale pagina, ho scelto quale messaggio, quindi ho scritto un messaggio, un nuovo video, un link al video, il titolo, sono tutta una serie di impostazioni per il modulo. Ora, se faccio, se eseguo questo modulo, in questo caso mi dice non ci sono risultati perché non ci sono nuovi video, però posso scegliere di magari processare tutti i video, ma in questo caso meglio se vado a processare solo l'ultimo video, quindi inizia dall'ultimo video e qui vedo proprio come l'esecuzione, qui posso vedere anche tutti i dettagli dell'operazione fatta e del risultato, quindi questo scenario ha funzionato, cioè è andato a buon fine, non ci sono stati errori di nessun tipo e qui se ricarico la pagina non ci lamentiamo della connessione di Giacarta non puoi manco dire la solita connessione in finta fibra italiana, no, neanche. Broadband, magari fate prima voi aprire e guardare la pagina, qui apparirà a breve, a parte che queste pagine di Facebook comunque mi sembra che sono diventate pesantissime in ogni caso. Ok, qua c'è pubblicato, beh, io che sono amministratore vedo che è pubblicato Integromat, altrimenti comunque si vede stato pubblicato questo post come il risultato di questa di questa automazione. Ora, qui niente mi vieta di aggiungere un altro modulo e che ne so, mettere Twitter Twitch o qualcosa di più moderno e andare a creare anche creare un nuovo tweet anche questo che informa che c'è un nuovo un nuovo video sul mio canale. Magari andiamo su questo è carino perché ora io non mi ricordo cioè non sono andato dentro If This Then That a livello di fare questa cosa ma ho sempre utilizzato If This Then That con integrazione multiple cioè se volevo da una foto su Instagram pubblicarla su Facebook e su LinkedIn facevo due integrazioni diverse invece questo lo puoi fare in un unico flusso? Sì questo lo fai in un unico flusso è uno scenario ogni esecuzione ognuna di questi passaggi è un'operazione e vengono fatti diciamo in sequenza da sinistra verso verso destra e poi utilizzare i dati cioè i dati del modulo precedente qui ecco questa cosa magari non si era non si era vista qui io posso andare a prendere i dati che sono che arrivano dai moduli precedenti in questo caso al modulo YouTube quindi posso prendere il titolo eccetera e utilizzarlo per l'automazione successiva ok ora volevo far vedere qualcosa qualche altro scenario e ah una cosa di cui avevo avuto di cui avevo bisogno il mese scorso perché volevo creare le copertine dei dei video YouTube e mi serviva a tirar fuori un elenco di video YouTube per poter creare cioè passare un elenco di video e non l'ho trovata non ho trovato una soluzione una soluzione facile a questa cosa finché mi è venuto in mente di guardare in Integromat e infatti in Integromat ho fatto anche qui uno scenario che carica i video qui ho messo un limite di 50 video per ogni esecuzione così va più spedito e qui invia i dati per ogni video invia i dati a Google Sheet che appunto seleziono il foglio il file il foglio eccetera e vado a riempire i campi del Google Sheet come mi serve cioè con i dati del video il risultato è stato questo questo foglio questo foglio dove c'è l'indirizzo del video il titolo poi io sono andato a aggiungere a mano il titolo che volevo per per l'immagine di copertina perché a volte il titolo per l'immagine di copertina anzi sempre è diverso da quello dal titolo del video e poi ho messo delle colonne se è da fare e se è stato fatto perché poi ho passato questo foglio a un assistente che ha creato le immagini ha creato le varie immagini e le ha caricate poi su YouTube quindi cioè anche a volte anche per cose che o richiederebbero tanto tempo perché comunque sono qua quasi 90 video avrebbe richiesto un bel po' di tempo o non trovavo un altro modo a volte Integromat permette di fare di trovare di tirar fuori la soluzione e adesso volevo far vedere uno scenario un po' più complesso e che è questo questo qua ok questo caso si parte da un modulo che è collegato a WooCommerce e controlla tutti i cambiamenti negli abbonamenti che ci sono questo perché con come WooPiOK vendiamo abbonamenti quindi ho bisogno di fare una serie di di cose legate cioè gestione degli abbonamenti e fatta questa cosa vado a caricare cerco i contatti su ActiveCampaign quindi il software che utilizziamo per gestire le email e le newsletter vado a cercare i dettagli di di quel cliente quindi prendo l'email del cliente a questo punto qui c'è un'operazione che si chiama router che diciamo sdoppia o triplica insomma ripete il router parte da un ingresso e va su più uscite in questo caso va su due uscite quindi posso fare operazioni multiple su catene multiple ora per scegliere dove andare ho applicato un filtro che si può fare semplicemente prendendo uno dei parametri dei moduli precedenti in questo caso lo stato vedendo se l'abbonamento è stato cancellato allora vengono fatte delle vengono aggiunte delle informazioni su Google Sheet poi viene selezionata ok viene aggiunta sì una una riga all'interno di un Google Sheet questo serve per fare selezionare una riga esistente perché questo viene fatto su un altro foglio e poi ok sì subscription ok cerco faccio in base al numero di ordine che è uno dei parametri che identificano identificano l'abbonamento e decido se viene trovato cancellalo se no o meglio se trovi questa informazione cancella dall'elenco di sottoscrizioni attive e in più fai un'operazione di gestione del contatto all'interno di ActiveCampaign dove rimuovo uno dei tag quindi rimuovo il tag che dice che questo è un cliente abbonato e in più se questa operazione dà errore vai qui in ignora e questo perché Integromat permette anche di gestire delle condizioni di errore senza bloccare senza bloccare tutto e altrimenti utilizzo questo modulo di Help Scout per creare una conversazione o meglio creare un ticket all'interno dell'Empresc dove c'è la viene creato di fatto il task per disattivare il servizio che poi uno dei miei collaboratori va a processare e qui torno al router iniziale perché un caso è se l'abbonamento viene cancellato un caso invece se viene richiesta la cancellazione ma non è ancora disattivato allora in questo caso faccio un'altra operazione sempre su Active Campaign vado ad aggiungere un tag vado ad aggiungere un tag che poi fa partire una sequenza di email per cercare di recuperare il cliente che appunto ha richiesto la cancellazione del servizio prima della scadenza ora spero di non avervi confuso troppo magari magari potremmo fare una cosa se tu Giulio qualcuno ha un'idea o vuole fare un live o qualche esperimento potremmo farlo per fare un'integrazione sì mi offro volontario se no sento che già c'è qualcuno che si è aperto chi è? no ok no ho sentito una proposta pensavo se Marco volevo chiederti però due cose prima di farti una proposta di integrazione una è questa una difficoltà barra paura è che questi automatismi girino in maniera praticamente indipendente cioè girino un po' così a cavolo o non girino o girino a cavolo o girino con un risultato che non è quello che ci interessa ti faccio un esempio la scorsa settimana stavo a Lisbona ho fatto un automatismo per cui tutte le foto che facevo su Instagram venivano pubblicate sul mio canale Telegram e tutte le foto che pubblicavo su Telegram venivano pubblicate su LinkedIn a un certo punto vado dentro LinkedIn e vedo che in realtà non viene pubblicata la foto cioè inizialmente veniva pubblicata la foto poi non si sa perché senza avere notifiche particolari veniva pubblicato un link alla foto originale invece che la foto ora questo cambiamento non è stato causato da un mio settaggio quindi probabilmente qualcosa è andato storto nella pubblicazione e ho avuto alla fine un output non desiderato quindi la cosa che ti volevo chiedere la prima è questa dalla tua esperienza perché poi queste cose vanno testate sul campo non è che loro ti scrivono noi sbaglieremo e faremo casino con le tue automazioni tutti dicono l'automazione funzionerà con Integromat hai la certezza che quello che imposti funziona hai la possibilità di vedere un preview hai un sistema di debug oppure come con If This Then That che ho usato per la mia automazione potrebbe essere che una volta ti gira in un modo e una volta ti gira in un altro beh i problemi purtroppo capitano e allora dipende vediamo adesso ti faccio vedere questo è un caso c'è stato un errore nel ecco c'è stato un errore nell'esecuzione di questo scenario dove vado a prendere i dati dei clienti per aggiornare un foglio di calcolo e allora vediamo se ok vorrei che poi magari saltano fuori troppi dettagli o cose però qui all'interno della notifica già ti dice il dettaglio dell'errore l'email era già stata trovata nel sistema e qui è perché c'era c'era una condizione che non avevo considerato dove appunto veniva fatto il sistema cercava di inserire due volte la stessa email purtroppo diciamo possono capitare allora da una parte possono capitare errori però è qua un errore una risposta il server ha creato un errore ha strumenti per capire cosa sta andando storto perché comunque ti dice cosa succede puoi guardare esattamente in quale modulo allora se può mi senti? sì sì ok vediamo se apro ok questi sono tutti sono tutti dettagli di questa specifica operazione e per ogni per ogni passaggio posso andare a vedere cosa è successo esattamente ecco qua per ogni operazione vedrò i dettagli ecco quello che non volevo farvi vedere i dettagli comunque di ogni in questo caso sono clienti quindi delle operazioni di WooCommerce posso andare a vedere per ogni per ogni passaggio che cosa è stato fatto quindi ognuno è stato fatto e vedi anche dove è verificato il casino che in questo caso è stato il segnale errore e in questa operazione operazione numero 16 l'email esiste già e qua vedo anche il dettaglio di chi è di quale email ha dato l'errore quindi offre strumenti bene cosa sta succedendo che problemi ci sono detto questo mi è capitato forse un paio di volte che dei moduli hanno smesso di funzionare bene perché facendo delle operazioni degli aggiornamenti non so che cosa ci sono stati dei bug questo penso due volte mi è successo ritrovare dei bug delle cose che non funzionavano e lì niente ho contattato il supporto devo dire che nel giro di qualche giorno hanno rilasciato il fix per la correzione quindi su questo li ho visti li ho visti reattivi però sì l'altra cosa che ti volevo chiedere è dalla mia esperienza con questi tu c'è una prima fase che è la fase dell'innamoramento in cui ah figo facciamo queste automazioni però poi concepire automazioni complesse come quelle che hai tirato giù tu insomma ho visto che ce n'hai anche un bel po' non è che ce n'hai una ce n'hai varie quindi volevo chiederti tu come ti muovi per pianificare un'automazione direttamente sul tool oppure ti metti su carta disegni e poi riporti sul tool guarda col fatto che ha un'interfaccia veramente chiara e carina parto direttamente dal tool e di solito tutte queste automazioni sono partite molto base magari solo due cose e poi pian piano col tempo sono andato a attaccarci delle altre cose o migliorarle o rendere un po' più complesse ok questo è interessante però di solito ecco magari partivo con cose esigenze base poi l'appetito via mangiando quindi si aggiungevano cose dopo allora fammi vedere un po' che possibilità ti offre LinkedIn che vedo che comunque è un argomento di interesse condiviso anche con i nostri compagni di viaggio che stanno partecipando alla diretta partiamo dai template quindi ok si può partire da un feed RSS pubblicare il post su Twitter Facebook LinkedIn ok nuovi tweet su LinkedIn le campagne di MailChimp su LinkedIn un post di WordPress che va a finire su LinkedIn insomma automazioni sui contenuti vedo qui sì e in uscita da LinkedIn dove è LinkedIn il trigger iniziale ok vediamo qui non quindi come posso vedere posso vedere posso vedere questo link sia per il cavaro con le API perché mi immagino il business adet quando tu parti dai un servizio e lui comunque dal servizio di partenza ti dice guarda questi sono sì sì qua adesso ho cliccato per fare una nuova un nuovo scenario quindi metto LinkedIn LinkedIn e poi vuole sempre che questa procedura guidata vuole che ne metto un paio ah e metti Telegram ok Telegram bot sì Telegram bot perché comunque bisogna utilizzare un bot per per fare operazioni su Telegram no scusa sto cliccando se posso sbagliare devo cliccare qua LinkedIn azione creta post creta company share ok allora io ogni volta creo un post su LinkedIn no però sono azioni non sono trigger perché fa una differenza se prendo Telegram per esempio ci sono dei triggers delle azioni ah ok quindi evidentemente LinkedIn non dà le API per fare trigger di uscita esatto sì ok va bene questo è anche interessante possiamo vedere se per caso Zapier ha qualcosa in più però temo che ecco infatti no trigger available action only vedi e andiamo a vedere su HubSpot che cosa andiamo a prenderci il nostro HubSpot quindi another module ci metto HubSpot CRM triggers quando un contatto è giunto una lista notification guarda l'engagement per esempio potrebbe essere possibile per un contatto aggiunto su HubSpot andarlo andarlo a cercare su LinkedIn e aggiungerlo ah tu non c'hai la programmazione bisogna per collegare però vediamo se posso creare un posto creare un company share solo questi due vabbè questo dipende dalla limitazione guarda un po' tra i servizi anche direttamente Patreon si o no ho visto che un momento ho visto plate ok ok ero convinto di averlo visto e invece Zapier eh no Zapier cercare Patreon Patreon ok ok New Member Pledge a me questo diglielo ai tuoi amici di Integromat di di metterci anche Patreon vabbè questo è un interesse mio personale perché utilizzando Patreon LinkedIn HubSpot CRM eh sì è un bel esempio perché in effetti come dicevo all'inizio Zapier come supporto per applicazioni e ancora e ancora di più per quello a volte vanno utilizzati tutti e due bene quindi potrebbe essere perché io nelle mie applicazioni ho su Zapier eh ho alcune che portano da Patreon dentro HubSpot pure su Zapier è più complesso fare operazioni più step io almeno vabbè probabilmente per il mio account ho sempre fatto integrazioni singole quindi ho delle applicazioni che portano da Zapier scusami da Patreon dentro HubSpot CRM però c'erano altre che portano per esempio da Google Form ad HubSpot CRM e questa seconda o il contrario insomma che convaluano altri servizi in questo modo uno può utilizzare ottimizzare il suo utilizzo di Zapier utilizzando solo gli Zap su servizi che non sono supportati da Integromat e utilizzando invece Integromat per tutti gli altri con delle sequenze più complesse si si può diventare si può diventare parecchio creativi ci sono degli strumenti di formazione creatività su Integromat perché molti anche gli sviluppi che puoi fare sono le idee che ti vengono date c'è un academy un supporto loro ti suggeriscono delle cose e ci sono i template per partire con delle con degli scenari già fatti oppure qui sul c'è la parte di app sul sito c'è la parte di app e service dove possiamo prendere Facebook Messenger fa vedere anche qui un po' qualche esempio io utilizzo i trigger le azioni va a dare più dettagli però ti sentisci allora per la parte helps and tutorial hanno sì hanno dei video devo dire che in fase iniziale comunque non è stato super intuitivo anche per me capire il discorso dei router poi ci sono dei moduli speciali dove puoi fare le interazioni fra elementi non è stato super intuitivo e lì il supporto a volte ha sopperito la mancanza di documentazione o di chiarezza nella documentazione era anche più di un anno fa quindi nel frattempo sicuramente avranno migliorato anche 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 la documentazione base certo sono andati oltre va bene Daniele io non posso fare altro che ringraziarti mostrati la tua faccia per il saluto finale ti ringrazio per averci mostrato come utilizzi Integromat e soprattutto direi a me la cosa che ha colpito di più al di là dei vantaggi sul tema del oh è mancata la connessione ok è saltato Giulio ci sono adesso è stato un momento è Giulio che è è saltato ti faccio una domanda io è possibile preimpostare il post cioè quando fai un podcast perché tu hai un fantastico podcast mi ricordo eccoli pensavate di esservi liberati di me e dite la verità avete devuto stavo stavo dicendo la cosa Daniele leva la condivisione dello schermo ok c'era c'è una domanda di Marco non so se è qualcosa che devo farvi vedere a schermo no l'unica cosa ti pensavo se c'era la possibilità una volta che hai pubblicato una nuova puntata del podcast di andare direttamente a pubblicarla su facebook linkedin dove deve essere però solo in in draft nel senso che l'utilizzo sarebbe su linkedin o comunque sui social poi di taggare le persone coinvolte che ci sono nel podcast non so se è stata chiara la domanda perché io ho visto prima che da rss feed a facebook beh qui allora innanzitutto puoi schedulare in questo caso lo scenario tutti i giorni all'otta e mezza così sai che puoi dare una puoi decidere di pubblicare solo a un certo orario oppure puoi anche puoi fare a intervalli regolari insomma puoi comunque fare uno scheduling anche avanzato se vuoi controllare quando viene postato però per metterli come draft mi sa che bisogna andare a vedere vediamo il modulo specifico per linkedin vabbè anche facebook c'è vabbè non linkedin non so linkedin dà qualche opzione create a post i want to add a post share a link post content visibility everyone only my connection no la cosa di mettere qualcosa come draft no perché tu dici vuoi metterlo come draft per poi andarlo a editare dopo per aggiungere per metterle le connessioni allora diventa non si può vabbè grazie ok allora disattivo la divisione se riesco ok benissimo io ti stavo dicendo che la cosa che mi ha colpito cioè al di là del costa di meno di qua e di là quello che mi ha colpito maggiormente di del servizio in sé è la il creatore visuale che effettivamente manca su if this and that e ma su zapier la possibilità di vedere il processo con i suoi diciamo le sue ramificazioni e vedere in maniera visuale un po' come per le email active campaign trovo che dia un valore in più al tool e infatti ti consente poi di disegnarlo direttamente sul tool quindi ti ringrazio va bene ragazzi allora Daniele grazie mille per questo web talk e per successive domande integrazioni tanto sappiamo dove trovarti e buona giornata a tutti alla prossima un saluto un saluto Grazie a tutti.